Ci ha raggiunto Mattia Tascone, raccontaci l'emozione perché poi questo 4-1 è un risultato incredibile per voi. Sì, sicuramente abbiamo fatto bene stasera. Il risultato è dalla nostra parte, però sicuramente lunedì troveremo una squadra guerrita e noi dobbiamo fare la nostra partita. Ho visto che hai sultato parecchio al gol di D'Ausilio perché è un cerignola che fa la differenza anche in chi entra e tu l'hai dimostrato tante volte. Sì, sicuramente in squadra c'è tanta concorrenza. I ragazzi che non partono dall'inizio si fanno sempre trovare pronti e Michele lo sta facendo alla grande. Sono contento per lui e mi auguro che gli altri entrano e fanno sempre bene così. Grazie a Mattia Tascone, grazie per essere stato con noi. Grazie Mattia.